Oggi ti porto con me nel mio primo giorno in accademia Partiamo da Roma, quel posto dove tutto sembra sempre più magico Per iniziare e per rompere il ghiaccio ho deciso di portare i cornetti a tutti quanti Appena entrati in aula e dopo le classiche presentazioni ci siamo messi subito in gioco Con degli esercizi di introspezione e poi lezioni di edizione Ma la cosa più bella è che fin da subito c'è stata una connessione assurda con il gruppo Un po' come se ci conoscessimo già da tempo e fossimo parte già di una piccola famiglia Adesso abbiamo appena finito la prima parte della mattina Me ne vado a pranzo a mangiare una cosa al volo Abbiamo un'ora di pausa e poi caffè e si rinizio C'era un'energia incredibile La cosa che mi ha lasciato questa giornata è la bellezza della condivisione delle emozioni, delle insicurezze È uno di quei giorni che ti cambiano letteralmente perché capisci che non sei solo C'è ancora spazio per l'autenticità E vi lascio con quella di Falzone, ciao! Allora andiamo a questa carbonara Non so se si vede normale Non so se si vede anche l'impiattamento Non male Grande calidade Allora andiamo a questa carbonara